ciao amici vi piacerebbe perdere qualche bel chiletto in un mese mangiando tante fresche e gustose insalate in questo video vi spiego come dire addio a pancia cellulite e grasso in eccesso se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video la dieta dell'insalata è anche comoda da seguire per chi lavora perché non serve scaldare né cuocere nulla creativa e sfiziosa con le giuste combinazioni di certo non ci farà patire la fame a colazione ogni giorno possiamo fare un'insalata di frutta diversa con fette di frutta tagliate e adagiate su foglie di lattuga radicchio rosso o altra insalata durante la settimana possiamo far ruotare diversi tipi di insalate e condimenti ecco qualche esempio in versione adatta agli onnivori e ai vegetariani la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile lunedì a pranzo insalata di lattuga con carote crude pomodori e sesamo abbinata a pesce al forno o a vapore o a toffo affumicato al sesamo a cena insalata di ananas con tacchino arrosto o con affettato vegetariano saporito martedì a pranzo insalata con pomodori carote cipolle opzionali olive e capperi abbinata a vitello a fette oppure a fagioli bianchi a cena insalata di fagiolini e pomodori con polpa di granchio oppure tempè mercoledì a pranzo insalata di verza verde e viola con carote abbinata a frutti di mare o a crema di ceci da spalmare su crostini leggeri a cena insalata di rape rosse a fette carote radicchio e mela rossa abbinata a tonno al naturale oppure a lenticchie rosse e verdi giovedì a pranzo insalata iceberg con olive pinoli e noci abbinata a petto di pollo oppure seitan alla piastra a cena insalata con avocado mais e pomodoro abbinata a gamberi oppure formaggio vegano venerdì a pranzo insalata a base di carote rucola radicchio e olive con polipo oppure con uova sode a cena insalata di verdure miste con riso bianco o integrale sabato a pranzo insalata mista a piacere condita con fiocchi di formaggio magro oppure con crema di mandorle e sesamo a cena insalata di champignon con gamberi oppure con tofu alla piastra domenica a pranzo un insalata con finocchi arance e pistacchi accompagnata da una frittata con verdurine fresche a cena un insalata di patate al prezzemolo con prosciutto cotto al naturale oppure con un hamburger vegano mi raccomando condite tutto solo con olio di oliva unite alla dieta esercizio fisico e tanta acqua e noterete subito i benefici avete visto amici com'è facile dimagrire con la dieta dell'insalata per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali iscriviti al canale iscriviti al canale